Sì, c'è un incidente, è un tubo che perde acqua, dovete aspettare un attimo, poi appena risolviamo... Stai zitto, porco cane! Vamos M1, 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 M1 Fai buggata, eh? Bravo! Andiamo al garage centrale qui Ti curo io, tranquillo Andiamo al garage centrale qui sta aspettando Valis Minca, guarda hanno comprato tutti i popolari, bisogna mettere un altro caso popolare Eh, comunque loro mi rispetta ma finirei su TikToker? Vai, vai, tranquillo Però non mettere canzone meme, dai No, non metto un caso, lascio così Senza musica, senza niente Non so musica, dico M1, M1, M1 ha stappato Ho tappato il suo topo Eh, ci sta, ma ti dite, bisogna andare a soffrire, lo facciamo per bene Io voglio tappare Kertus con lì, con lì voglio tappare figa È easy Oh! C'è da acquistare, monta No, devo andare a mangiare Eh, sì, mangia dopo Ma cosa mangi? Non mangiare, uomo non mangia Uomo non mangia Hai visto macchina 9? Sì, io vi sto guardando prima Ah, ma io ti devo ridare nitro valse Che ti ricerco Oh, è mio, hai clippato? Hai clippato? Cosa? Ma io sono in live, certo che ho clippato Cioè, c'è il clip di live Allora, dopo me lo passi? Sì, lo metto su YouTube, lo metto i video tranquilli Scrivo, Amza, Amza mi hai fatto in live in Roles, vai Ah, posso, allora la prendo lì Allora, oh, mi servono tre GPS e un laptop e basta Un laptop verde Va bene, va bene Vabbè, andiamo che bisogna fare rapido Allora, dobbiamo fare rapido a banca, allora Allora Oh, mettete cintura, raga Ah, anguella Cintura io non so Non l'ho mai fatto Oh, però, guarda, sbidio, ora rapido a banca vengono con SMG Allora, quello è grave Che noi siamo con di pistola Eh, quello in curo è un po' grave Io ho l'Ik, ma preferisco il pistola No, se non avevi l'inculo, figa Meglio E io se la poco devo spegnere e mandare a dormire Che cazzo è sta macchina? Ma che cosa? Che vuoi, oh Che voglio, oh Che ragazzi Ciao bello Che vuoi? Eeeh, vorrei chiedervi per caso l'interessano la K47 No, no, non so che la vendo io Eh, no, dove andrei io? Eh, no, fra Non c'è la c'è anche io tranquillo si fa senza ostaggio si dà un buttino perchè si prende tanto a banca si vede ogni giorno che fai questa cosa oh aspettate qua eh non puntare nessuno allora vediamo se posso si posso rubiamo banca da tanto che non si fa banca grazie per donazioni vediamo vado a chiamare anche Emza vai vai con lui a rubare le cose io rubo? vai 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 si si entra lì e vai c'è c'è ninja lì dentro vai con lui ci spiega lui buonasera che è qua è qui un attimo abbiamo fermato perchè c'è un incidente siamo muratore si c'è un incidente è un tubo che perde acqua dovete aspettare un attimo poi appena risolviamo stai zitto porco cane che lockpick vado a aprire io aspetta un attimo coglione stavo dicendo vai 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 aspetta vai 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 ninja vai vai ho aperto io no che lockpick no no ha detto ha detto vai via porco dio vai via porco cane ha detto no non ha detto lockpick ha detto mi chiamo lockpick il mio nome è lockpick e il cognome pick capito come john wick ma però io sono lockpick capito ma aspetta scendiamo un po' fuori che io non sento un cazzo fai mi uscire non ti sento porco cane porco dio non sento un cazzo vieni qua che hai detto è arrivata la segnalazione di una rapina ma ti ho detto noi stiamo riparando i tubi perché sta perdendo acqua forse acqua sono entrate dentro dove ci sono i fili e ha fatto male e vi è partita l'alarme di rapina ma noi stiamo a fare rapina stiamo a riparare i tubi che faccia il secondo circuito ah ok io sicuro però per favore non piangere e non ci rimanere male che cosa vuoi dire signore? scusate è partito radio in mia testa succede ogni tanto ah si si comunque io do le vocine carino carino? eh si 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 comunque per favore non piangere e non ci rimanere male allora allora siamo in due scusate il radio siamo a riparatubi c'è acqua che è entrata via vai via porco cane un attimo ma lei non l'hai vestito da muratore? no lei era uno era un cliente era un cliente era un cliente abbiamo chiesto lui di tenere i tubi chiuse ah ok capito aspetta vado a vedere sotto a posto vado a vedere sotto a posto avete finito? 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 ma io sto dicendo che noi siamo a riparatubi siamo a rapatubi? è il cazzatore io ho detto noi siamo a riparatubi e non è niente ah riparatubi ah c'è un tubo qua c'è un pezzo che ha cagato qua vabbè avete preso tutto due borsone da 14 due da 18 tre da di 12 ho preso due rolex tre bo vabbè come funziona qua vabbè tranquillo allora a posto possiamo partire datemi un po' di roba che devo dare per la fuga ti do io? dai due borsone due borsone basta do io do io allora a posto a posto mi ha dato una borsone fra ah due vai due due dove i sbirri? stanno arrivando tanti sbirri questi qua sono già quattro fra ma arrivano in sei oh buonasera una domanda quella lì che ha sulla mano è perché sono spara chiodi? sì sì quella è spara chiodi questo è spara chiodi per favore puoi tolgere l'automatica per favore bro no per favore per favore visto che noi abbiamo le pistole ci siamo scarsa a sparare così facciamo contro il contri spasso ma allora allora per favore per favore allora aspetta tutti fermi tutti fermi tutti vi do due vi do aspetta vi do metà di quelle che abbiamo preso prendiamo la fuga va bene grazie va bene ti va bene vai cazzo ti va bene no ho dato a lui ninja dai vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua vieni dentro un attimo vieni dentro un attimo vieni qua vieni qua devi fare una cosa aspetta allora prendi questo metti fai connect metti 111 il tuo nome sotto anche te vieni qua GPS panel devi usare 111 il tuo nome sul canale 111 si si mette il canale 111 e giù e giù metti il tuo nome e beffenda come vuoi io ho messo 111 ho messo sulla mappa si vede ora dove siamo capito allora allora io ho dato ho dato roba te ho dato per favore non piangere vieni vieni piangi che è meglio e non ci rimanere male dove vuoi sparare male male non pittare però ragazzi dove vuoi sparare no non pittare per ora allora dove dove vogliamo sparare eh bu ditemi vai vai tutto diritto può andare anche non metto no lo sai dove c'è les custom fai les custom lo sai quelle mi piace vediamoli non pittare non pittare poco cani 526 e non so qui c'è un diverso sono diverse civiche vai qua a sinistra si si lo so dove andare vai diamo a quelli di lo santo scasso per favore non piangere ecco mai tu è arrivato un po' non ci rimanere male grazie a umatic grazie a diego grazie a umatic sempre casino sempre casino ecco lei qua si si andiamo qua eh guarda qui l'automatica figa siamo futuri ma non pensa tanto è più facile spera a compi storia che automotica non salite che è meglio fidatevi di me finirà male radio aventi radio oh che casino che casino grazie per donazioni uomati grazie mille il giubbotto non me l'hai dato eh non l'ho dato il giubbotto? no ma non c'è nemmeno io fra ma in macchina era in macchina era ma perché abbiamo fatto i coso raga perché abbiamo fatto i rolos porco dio ora non c'è più giubbotto hai ragione porco cane va bene allora senza giubbotto ci siamo? no aspetta uno sta in macchina no 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 macchine blindate fra macchine blindate è blindata la macchina è blindata la macchina è blindata la macchina fatto uno come ha fatto uno come ha fatto uno fatto uno uno sta fu l'HG bro sono Enza oh 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 mi hanno preso ma chi è l'hiericolo o marlo ha fatto sono tutti dietro macchine fra deve andare dall'altra parte sparate le gambe spara le gambe no no fra attento attento non stare vicini eh ha fatto uno allora ci siamo? ha fatto qualcun altro te? eh c'è un altro lì che sta avvicinando uno che sta avvicinando guarda a sinistra oh porco cane guarda a sinistra arriva uno in HG a sinistra HG a sinistra a sinistra si c'è uno qua ma uno che impedi non so stanno curando l'altro eh stanno curando lo so perché anche noi stiamo curando no che coglioni stanno curando le persone no 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 è ancora terra oh 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 è ancora terra domani è life grazie mille per donazioni raga allora non avvicinarti da me per favore aspetta c'è uno qua oh non mi spara in testa a me porco cane eh perché c'è terra in culo no c'è ninja che mi sta sparando in testa dietro cazzo eh porco dio questo spara con cosa porco cane no la chat la chat la chat no va bene ma quanti c'è ancora quanti c'è ancora eh c'è uno qua a sinistra qua in HG se qualcuno serve cura ce l'ho eh ma però c'è uno che ha un'automatica credo eh lo so c'è uno dietro la macchina ci sono due ho visto due eh sì vai vai io faccio spara gli gambe non andare c'è uno qua se essi si è morto sì sì no no non è morto lui ora aspetta non avvicinate da me e sto usando e sto usando non avvicinarvi vai dietro vai dietro vai vai stanca c'è quattro uomo dov'è dov'è sempre lì dai porco dio sto smirazzo aspetta mo lo faccio mo lo faccio fatto fatto ninja fatto c'è una c'è un'altra ho bisogno di cure vieni vieni oh porco dio hanno fatto aspetta aspetta è uno con l'automatica tranquillo ancora vivi oh sparo le gambe oh attenti eh aspetta aspetta ora lo vedo sono dietro le macchine emza sei in radio dietro macchine sparate le gambe se vedete perché mi sta facendo le mani no aspetta aspetta perché sta facendo le mani davanti perché perché fa così contro clicca contro vai macchina blindata macchina blindata fra non avvicinare non avvicinare non avvicinare eh mi han preso dai c'è biondo sto curando è dura sta rapina dai manca uno manca uno oh ho tancato in testa porco dio lo ha fatto lo ha fatto lo ha fatto vai morti tutti è troppo forte emza cos'è che hai detto prima sono una pippa vai 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 luttate 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 i colpi ragazzi 22 rolas fila ah ragazzi non è uno di voi mi sembra che ha usato un micro smg hanno detto ma che cazzo dici abbiamo tutti le pistole ma poi ricordo che è la banca anche se si usava si può usare ha preso i colpi non vedo i colpi londina buonasera questo lo prendiamo no ne ho fatti due che bella andiamo andiamo ho preso uno io perché mi serve questo qua ti serve? perché? eh perché poi lo vedi perché andiamo no ma questa c'è la storia nostra andiamo andiamo eh oh ci tieni in culo ma dai sono forte anche con il culo in culo aspetta no era bello mi piaciuta questa rapina molto bella molto bella ma ovviamente non c'è più Ivan che regaia un saggio ma mi sa che non puoi prendere uno uno è morto a saggio eh questo qua posso ah e puoi? eh sì tranquillo ora lo capisci perché ti facciamo ti facciamo presentare l'obbio andino tranquillo grazie capo allora ma faremo l'ultimo saggio no l'ultima ora ora vedi che ora vedi che no si fa un'altra rapina allora si fa un'altra rapina allora allora non spengo allora facciamo una e poi basta allora oh ma no fra ma io non ho spento il gps a sbiro non hai spento? no per favore non piangere aspetta aspetta peggio il gps no non curare punta la porco dio non curare subito ora puntatelo eh M1 hai un curo? no cazzo ho sbagliato vabbè prendiamo questo no no fermo prima dobbiamo curare lui aspetta eh ora capisci perché curami anche a me se vuoi se c'è lei sì sì ma questo qua ha ancora vero sì sì punta punta alzati eh fermo 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 eh sì sì come stai? ma sei tutta Amza? io tutto posso tu per la vita ma figa è un nato lungo eh allie come stai? tutto bene quando mi pulisce soldi oh quando mi pulisca soldi eh non mi rispondi eh non mi rispondi eh perché magari scarica sto cazzo di cosa eh devi caricare eh perché io devo pulire soldi te non mi rispondi fa ancora lo sbiro venga rapine eh ho capito eh scusa tu farla rapine che ne sapevo che eri eh come posso eh io ti ho detto quando io faccio la rapine non venire capito ma che cazzo ne so che ho eh lo sai cosa faccio allora io eh quindi penso oh che scappo eh andate giuro che sparo subito dal padre non sparo io e dove vai ti piace prendere i colpi intera in testa vai fai non sai quando non mi buco di stronza oh te devi sta fermo cipier ninja ti perci te stai fermo stai fermo stai fermo fatemi mettere ma niente a te dai non fare non fare prendiamo la barca torna mi amata stai ahahah cazzo dici oh fammi magnetale fai tu una d'africa con me eh ci va nel lui con te tranquillo ecco vai lascia 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 aiuto dai meglio dai me sono poi cazzo sanzo anni con me che dai che ho mandato pure cazzo ti colore eh no 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 collega ormai se ero fermo qua fermo capito eh conosce questo è tuo nuovo amico biondina mi no cazzo tra il tuo nuovo soregalese no non mi piace no 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 non ti piace allora andiamo andiamo ti faccio vedere ti faccio vedere il nostro viaggio vieni vieni ti faccio vedere ti faccio vedere il nostro viaggio con 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 sbiro aspetta aspetta non montare non montare io sono più per il signor ciao conoscete non volevo anche saperlo vai accenditi il gps vai ora c'hai gps vai chiamato amici vai ti ricordi ti mancato sto viaggio mi sa che ti mancato tanto sto viaggio non so perché mi ricordo qualcosa l'ultima volta che sono salito qua in africa oh no vai tranquillo vai io sono pilota tranquillo c'ho la patente no no aspetta allora emson non sa cosa noi facciamo con binghi non lo so non lo sai ci siamo ah eccoli sono tuoi amici sotto guarda oh sparano ciao sbiro tutto bene ciao buonasera fermati fermati no l'ho lanciato l'ho lanciato fra ma che fermi cosa vuoi sparare in zona verde non muoiono ora che ha posto se fermavi facciamo almeno due eh ma non puoi sono in zona verde ora non muoiono capito non puoi niente sparare perché c'è script che non ti fa sparare facciamo un'altra rappa vai eh facciamo un'altra rappa vai andiamo andiamo mettere la macchina via prendiamo una macchina molto più divertente aspe parcheggiamo qua